amico Sandro Barbagallo. Buongiorno Sandro. Buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno, ben trovato. Grazie. Prego, accomodiamoci. Curatore delle collezioni storiche dei Musei Vaticane. Come stai innanzitutto? Bene. Passato una buona estate? Finalmente sì. E allora immergiamoci, l'ho detto, in questo viaggio che facciamo insieme quest'oggi. Si avvicina la festività dei Santi Cosme Damiano, i Santi Medici, come vengono detti, e l'arte li ha sempre celebrati. Sulla loro figura si sa e non si sa, ma l'arte li ha esaminati in diverso modo. E con te vogliamo sempre fare un percorso all'insegna della storia dell'arte e dei quadri. E cominciamo proprio da questo, ad opera di Jeanne Bourdichon. Sì, in effetti l'arte ha sempre esaminato queste due figure, due figure che tutti conoscono, ma che in effetti pochi veramente sanno chi siano stati e soprattutto qual è la loro importanza, quali sono i miracoli che veramente hanno in qualche modo celebrato la loro notorietà all'interno del cristianesimo. Ma soprattutto pochissimi sanno che la loro esplosione di notorietà si deve a un personaggio fiorentino molto molto importante, che Guardagaso portava il cognome e il nome di uno di questi santi medici, ossia Cosimo dei Medici. Perché naturalmente aveva... Quindi veriva da quello? Principalmente, perché portava il nome di Cosimo, uno dei due fratelli martiri e contemporaneamente aveva un cognome medici che, guardagaso, corrisponde a quella che era l'attività che questi due martiri santi svolgevano. Tra l'altro che un'attività molto particolare, eseguita in maniera molto particolare, tant'è vero che poi li ha portati direttamente al martirio, proprio per la conduzione della medicina. Considera che questi due fratelli, per alcuni addirittura gemelli, seppure noi nell'arte li vediamo sempre uno leggermente più grande dell'altro. Infatti nel primo quadro di quest'angi, mi sembrano già diversi. Anche qui, in questa opera di uno dei più grandi miniaturisti francesi, Bourdichon, vediamo che tra l'altro uno, infatti, Cosimo, ha i capelli bianchi, Damiano invece ancora ce li ha perfettamente Corvini. Eppure ufficialmente dovrebbero essere fratelli gemelli. Ma questo proprio per sottolineare la differenza tra i due fratelli. Perché uno era quello che operava in maniera diretta, l'altro quello che lo assisteva nelle attività operatorie. E in questo caso, infatti, vediamo proprio che Cosimo porta sempre questa ampolla. Questa ampolla è un'ampolla di urine. Nella medicina, nella medicina antica, ma anche oggi, l'esame delle urine è molto importante perché dice molte cose di quella che è la condizione reale del fisico. E guarda caso, invece, Damiano è pronto nel suo vaso di medicinali ad aiutare il fratello nel trovare una cura per la persona, in questo caso, che stanno in qualche modo assistendo. Quindi i due vanno di pari passo e questo essere presumibilmente gemelli lo si deve proprio al fatto che in qualche modo non c'è l'uno senza l'altro. Erano complementari in qualche modo. Sono esattamente, sono perfettamente complementari. Continuiamo allora a esaminarli attraverso la seconda opera di cui ci parli quest'oggi, Giovanni Battista Caracciolo, che li rappresenta. Vediamo una raffigurazione completamente diversa qui. Sì, vediamo una rappresentazione completamente diversa. Innanzitutto siamo nel 600 napoletano, siamo Giovanni Battista Caracciolo, dall'altro più noto come Battistello Caracciolo. È uno di quegli artisti che naturalmente hanno preso a piene mani la lezione di Caravaggio e lo possiamo vedere perfettamente come la luce, quella poca luce in veste, guarda caso, i volti dei due fratelli santi, ma soprattutto in veste le mani e gli oggetti in particolare. E anche in questo caso c'è questa sorta di colloquio, una sorta di colloquio quasi muto tra i due, perché è fatto da un gioco di sguardi, in cui comunque c'è Cosimo che in qualche modo sta comunicando qualcosa a Damiano che subito partecipa, tant'è vero che è pronto a scrivere qualcosa su un tacquino. E davanti, guarda caso, Cosimo indica un contenitore, come per dire, in questo caso, essendo questa la malattia, cosa mi dai? Perché è sempre Damiano che fornisce come una sorta di semplicista o farmacista i medicamenti a Cosimo, che invece è quello che dà esattamente qual è l'indicazione della malattia da curare. Quindi i ruoli in qualche modo si mantengono. Cambiamo quadro, cambiamo opera, Antoine de Favré, siamo nel 1748 e qua vediamo qualcosa che ci rivela un passo successivo, se vogliamo, nella conoscenza dei santi medici. Sì, è un passo successivo. È uno di quegli artisti francesi molto particolari, tra l'altro, che hanno lavorato moltissimo nell'ambito dei cavalieri di Malta. L'ordine di Malta, come si sa, è un ordine ospedaliero e quindi la presenza di questo quadro in questo settore legato proprio all'ordine di Malta è molto indicativo, essendo comunque i santi martiri, Cosimo e Damiano, protettori automaticamente di tutto ciò che riguarda la medicina in senso lato. Anche in questo caso vediamo proprio Cosimo intento ad operare al torace una persona. Vediamo in primo piano quelli che erano gli strumenti dell'epoca per procedere a delle operazioni. Naturalmente mancano tutte quelle accortezze contemporanee legate alla setticità del luogo e delle attrezzature. Però la cosa che in questo caso notiamo è che mentre Cosimo opera, Damiano lo assiste con la preghiera. Perché Damiano in quel momento, non potendo lavorare insieme al fratello su questa persona, prega affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. E quindi continua ad esserci sempre sottolineata questo ruolo subalterno, ma non proprio subalterno, del fratello più piccolo, perché comunque sta lì e svolge anche lui la sua missione importante. È una complementarietà. La cura del corpo sembra voler dire passa anche attraverso la cura dell'anima. Assolutamente. La preghiera è naturalmente lo strumento. Sandro rimani con noi. Ci vediamo fra poco. Continuiamo a parlare di questi santi che hanno tanto da dire anche in questo periodo di pandemia. A fra poco. Domenica prossima festeggeremo Santi Cosma e Damiano. I santi dottori non si facevano pagare per il loro operato. Con Sandro Barbagallo quest'oggi li stiamo esaminando dal punto di vista di come l'arte li ha raffigurati. Siamo arrivati a una rappresentazione decisamente particolare, il miracolo del trapianto, che ci suggerisce un episodio altrettanto noto. Sì, tra l'altro quest'opera ci permette anche di raccontare che non erano certamente italiani, non erano certamente romani, nonostante la notorietà nella penisola di Cosma e Damiano, ma venivano da una località nei pressi di Antiochia, quindi stiamo parlando dell'attuale Turchia su per giù, e addirittura avevano studiato in Siria e il loro esercizio tra l'altro non veniva mai pagato, o perlomeno loro non volevano essere pagati, tanto è vero che vengono chiamati i Santi Anargiri, ossia quelli senza argento, perché praticamente non viene corrisposto assolutamente denaro. E a Roma arrivano tra l'altro intorno al Cinquecento, quando Papa Felice IV fa costruire la basilica proprio di Santi Cosma e Damiano sulla via sacra, adesso però ci si può accedere anche da via dei fori imperiali. E proprio in quella basilica c'era un diacono, tale Giustiniano, che tra l'altro soffriva di gravi problemi e stava tra l'altro per perdere la vita perché aveva una gamba in cancrena. Cosa succede? Una sera, disperato per i dolori, per lo stato in cui stava, si rivolse proprio ai Santi Padroni della Chiesa, dove tra l'altro lui stesso sofficiava. E quando andò a dormire ebbe un sogno. Sognò che gli apparivano vicino al letto Cosma e Damiano che cominciavano a discutere tra fratelli su come affrontare questo problema. E naturalmente Cosma dice che la gamba va amputata, va sostituita con un'altra gamba. Un trappianto antelittera. Naturalmente. E Damiano risponde, guarda che proprio oggi è morto un'etiope che è stato sepolto nel cimitero qui vicino di San Pietro e Vincoli. In effetti in linea d'aria è proprio vicino. E possiamo andare a prendere la gamba dall'etiope defunto. Guarda caso, prendono la gamba dall'etiope defunto. Qui è il momento in cui la stanno nuovamente reinnestando al corpo del povero diacono Giustiniano, il quale l'indomani mattina risvegliato si trova la sua gamba perfettamente nera ma contemporaneamente trova che la gamba non gli fa nessun male e come guarita e capisce che quello che aveva sognato nella realtà non era un sogno ma era l'aver partecipato in qualche modo nella dormiveglia a qualcosa di prodigioso. In effetti addirittura, secondo la leggenda aurea, gli amici del diacono andarono a vedere, a disseppellire l'etiope a San Pietro e Vincoli e trovarono che nella tomba dell'etiope una delle gambe invece erano bianche. Quindi c'era stata una sorta di sostituzione. Quindi i santi martiri in qualche modo sono noti per tutta una serie di miracoli ma quello del trapianto della gamba è stato quello che più di tutti è stato naturalmente visto, analizzato dagli artisti anche perché permette anche di raccontare un interno di una casa, di una stanza da letto dell'epoca naturalmente attraverso i secoli in cui questi artisti hanno esercitato. E qui in questo caso vediamo proprio questa camera da letto dove proprio sopra il letto tra l'altro ci sta una mensola con una serie di oggetti che ci aiutano a capire il gusto dell'epoca. Sandro, allora io ti ringrazio per questo viaggio che ci hai fatto fare, ci hai reso più vicini a queste due figure, tutti quanti li ricorderemo domenica e grazie a te li ricorderemo anche in modo diverso. Grazie a Sandro per Bagallo e a presto, alla prossima!